Giulio, Cateina, Jacopo, ciao ragazzi benvenuti alla tazza è il podcast che parla di tutto e niente qui con noi Giulio, Cate e Jacopo parleremo ogni settimana di cultura pop e amicizia Benvenuti, cominciamo subito Sì, ben rientrati Bentornati Ciao ciao Jacopo perché sei così smorto oggi? Mi hanno detto di fare gli intro meno lanciati No a me piace lo Jacopo entusiasta Ciao Jacopo e questa settimana devo essere mogio nei primi cinque minuti di trasmissione Jacopo Giulio la pentola di fagioli non rubare il lavoro agli altri per favore Ma in realtà sarà l'ora in cui stiamo registrando che mi rincoglionisce più che i feedback del pubblico Vabbè prendi il caffè e andiamo Dai fai un ingresso in scena con Saltellino Ciao a tutti Questo è sicuramente dato in clip Sembra il doppiatore di Goku Ciao sexy Mattuniera Ciao pentola di fagioli, ciao a tutti Ma ciao Cate, di cosa volevi parlarci oggi? Qui serve un effetto sonoro Transumanesimo O transumanismo Cioè? Ok Questi problemi mi fanno già paura Vedi? Ma no, in realtà no Perché è una cosa che stiamo già vivendo E che ci siamo già dentro E so che voi siete appassionatissimi È quel movimento culturale che sostiene l'uso delle scoperte scientifiche, tecnologiche Per aumentare le capacità fisiche dell'uomo Quindi dall'impiantarsi un chip sottopelle Alla sostituzione delle parti del corpo con le protesi iper, mega, super, biotecnologiche Sarò un fanatico della fantascienza Ma io non vedo l'ora che qualcuno inventi un naso elettronico E posso liberarmi del mio naso e finalmente respirare come una persona civile Tra l'altro il fatto che nessuno conosce la parola ufficiale Che per me è bellissimo Transumanesimo A me mi fa tornare in mente un po' il rinascimento E tutte quelle epoche di fermento Che è effettivamente così se ci pensi È fantastico E noi banalmente lo chiamiamo come biohack Biohacking Quei pazzi che si fanno impiantare il chip sottopelle Detto ancora più banalmente Sostanzialmente è sempre una cyborgizzazione delle persone Che come io semplifico le cose Esatto, esatto Cioè nel senso appunto ogni persona che cerca di No, cerca, vuole diventare un po' più macchina E quindi diventa una sorta di cyborg Come nella fantascienza fumettistica o letteraria Ecco no, in realtà ti devo fermare subito Perché non è solo quello Il movimento è molto ampio Ci sono tante scuole di pensiero Perché si parla veramente dal pensare a dei device Che ti tolgano la testa china sul telefono Quindi c'è gente che pensa a interfacce direttamente sulla pelle Che è un chip messo sotto pelle Che ti può pagare la spesa Ti può aprire le porte Oppure ad esempio quando stringi la mano a un altro Ci si scambia il biglietto da visita con la stretta di mano Però In quel senso Vedi in un film In realtà stanno già facendo queste cose Il problema ad esempio in questa specifica situazione È che non hai l'interfaccia Cioè noi sul telefono abbiamo l'interfaccia Che è la grafica È la user experience È il come ti muovi È il come dialoghi con la tecnologia che hai Se tu hai un chip sotto pelle Come fai a capire che c'è stato Che è effettivamente avvenuto uno scambio di informazioni Cioè se uno ti stringe la mano Come fai a sapere se non ti ha fregato tutti i dati della carta di credito E quindi stanno cercando di capire come interfacciarsi E questo ci sono ovviamente Chi? Dei giapponesi Che stanno studiando delle forme luminose Che ti compaiono sul braccio Penso siano degli esagoni Dei pentagoni È un codice colore Per darti Pensacolo verde Hai aperto la porta Pensacolo rosso La tua transazione per pagare la spesa Non è stata accettata Insomma Hai bisogno di capire cosa ti sta succedendo E aspetta Ma c'è già gente che ha dei microchip Impendati sulla pelle Che fanno queste cose? Allora C'è già gente Ci sono dei gruppi Di transumanisti Loro si chiamano biohackers Sono ovunque Anche in Italia ci sono E fanno delle sessioni Dove si impiantano Dai tatuatori Dai dei piercer Si fanno impiantare Questo piccolo chip Sul mano Sulla mano Sul dorso della mano E in questo chip Adesso ci sono poche informazioni Tipo il codice fiscale O Esatto Alcuni dati Fisici Un po' come la tua Cartella clinica Sai che bello Jacopo Avere la testa dei trasporti Sulla mano Tu arrivi Bip Bip Ciao guys Vediamo Lumaconi C'è quello che hai Nel contactless Nelle carte di credito Contactless Ce l'hai esattamente Con la mano Quindi togli La necessità Di prendere il portafoglio Tirare fuori la carta giusta Appoggiarla al lettore Ma ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo già Ce l'abbiamo già No no ma ce l'abbiamo già Perché abbiamo gli orologi Il mio orologio Fa già sta cosa Perché impiantarmi un chip Quando ho il mio orologio Che lo fa La mia domanda è la stessa Ma perché Non possiamo creare Tipo un braccialetto Un anello Una collana Ma il mio orologio Già lo fa Io ho l'Apple Pay Ce l'ho sul mio orologio E passo la metropolitana E tutto Con l'orologio Quindi invece Che tirare fuori la carta O il telefono Uso l'orologio Perché devo impiantarmi Una roba sotto pelle Io ero molto scettico Però Qua a Londra Noi abbiamo fatto il passaggio Dal non avere più contante Perché io non uso contante Da almeno tre anni Sì All'avere solo Contactless Carte che appoggi All'avere le carte digitali Io ero scettico Alla riguardo Ma da quando ho il telefono Al polso Io non tiro più fuori il portafoglio Io a volte esco di casa Senza il portafoglio Ho l'orologio Faccio tutto con quello Sì effettivamente Anch'io Quando ho comprato L'Apple Watch Quindi l'orologio Con cui puoi pagare Con l'Apple Pay Perché poi qui in Inghilterra È arrivata Un anno Un anno e mezzo Prima che arrivassi in Italia Io mi ricordo Che quando andavo a fare La posa a pranzo Ancora anni fa Io scendevo giù Al caffè Da preparermi Il mio cornetto di caffè Senza il portafoglio Solo con l'orologio Ho il mio badge Per rientrare Ma vorrei fare Una piccola parentesi La cosa interessante Che distingue La fantascienza Dall'uso attuale Della tecnologia È che Qualunque libro Di fantascienza Libro Topic Fantascientifico Che sia videogioco Film Libro Eccetera Con poche eccezioni Parla Del topic Fantascientifico In questione Come già affermato Cioè parte Da un elemento Che già c'è Nel mondo Descritto Della X libro Ci sono già Persone Che hanno Armi biologici O che hanno Cip sotto pelle Quello che tu appena Descritto Era C'era fatto Molto bene Nel film Il sesto elemento Che è del 96 Se non sbaglio Il quinto elemento Di Besson Dove lei All'inizio Non ha il chip Sotto pelle Per cui non ha L'ID Non riesce a passare Nella metro Perché non ha Non ha il chip Proprio all'inizio Del film Questo c'è già Da mo La cosa divertente È che Nel mondo reale La tecnologia Avviene per piccoli passi E come piccoli Piccoli step Che migliorano la vita Per esempio Facciamo un tema Che a me Appunto L'ho già parlato Una qualche volta fa Il tema Delle assistenti digitali Giulio che odia le cose Che nella fantascienza Sono sempre descritti Come una cosa Stra negativa Parliamo di Di un grande fratello Piuttosto che Non 2001 Di sero nello spazio L'assistente digitale Come Quel Elemento cattivo Che ti controlla La vita E sa tutto di te La realtà Anche in Wall-E Volevo tornare A un livello più Anche in Wall-E Anche in Wall-E L'autopilota Il cattivo Il grande fratello Non è un assistente digitale È un dittatore No Non è un assistente digitale No però È lo stesso Tecnologia C'è un Record Del video Dell'audio In qualunque momento Tu sei Ah sì sì Il fatto che sei controllato 24 ore su 24 da uno schermo Che sei registrato A suo tempo Era dai miei vari microfoni In giro Sì 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 Quello è vero Però Diciamo che non lo vedevo Molto come assistente digitale Quello che sta succedendo Nella tecnologia È che Mentre nel Grande fratello Questa tecnologia È imposta Dal Governo Di turno Sì Quello che sta Succedendo È che la gente Al giorno d'oggi Sta volontariamente Mettendo dei microfoni Delle telecamere In casa propria Mimetizzate Da assistenti digitali Leggevo un articolo Voi ritrovarlo adesso Che uno diceva Che appunto Questo mettere Google Tutti questi Device Google Che sanno cosa fai Sanno cosa ti piace Sai dove sei In casa Telecamera che vede Il tuo gatto Cosa sta facendo Sono infatti Di fatto Delle tecnologie Che di nascosto Stanno invadendo La tua privacy Esattamente come Il grande fratello Sei un bomblottista Solo che Beh è abbastanza vero Ma non è che Troppo di nascosto In realtà Ovvio Tu gli stai Anche il permesso Di invadere La tua privacy Gli stai dando Tu il permesso Eh sì È quella La grossa differenza E lo stesso Nell'ambito Di tutte le tecnologie Transumantiche Mentre nella fantascienza Queste sono date Per scontate E spesso In maniera negativa Nel giorno d'oggi Noi stiamo Invece Affrontando Questa 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 transizione Accettando questo cambiamento Grazie Alla praticità d'uso Appunto Se mi dissero Che Invece di pagare Col orologio Posso pagare direttamente Con un chip Sottopelle Ma Dammelo subito Non ci penso due volte No no io ci penso Molto più due volte Infatti Voglio tornare Appunto anche Alla questione Del chip Sottopelle Infatti ci sono Quelli Iper entusiasti Quelli che dicono No mai Nella vita Io sono umano Non voglio Queste cose Ma la stessa cosa Adesso questi discorsi Sono un po' Non puerili Però ci sono Degli ambiti Molto più Pressanti Come le protesi La biomeccanica Che ha raggiunto Le protesi Attuali E ci sono Dei problemi Non solo Etici Ma anche Di altro ordine Ad esempio Alle paraolimpiadi Ci sono dei problemi Perché Non tutti i paraatleti Hanno Lo stesso tipo Di protesi E comunque Gli sponsor Delle protesi Gli vanno Un po' Come le macchine Cercano di dargli Più tecnologia Possibile Quindi le paraolimpiadi Si stanno trasformando In olimpiadi Di super uomini Anche se non so Se vi raccontate Banalmente I corridori Che hanno Quelle protesi Che sono Delle molle Non corrono più Come un essere umano Hanno un'accelerazione Molto maggiore Agli atleti Delle olimpiadi Normali Perché hanno Delle molle Nei piedi Sostanzialmente Ma di fatto Anche per quello Che Pistorius Che è quello Poi famoso Anche Peraltro purtroppo Pistorius Che voleva correre Con gli uomini Gli hanno detto Sì ok Però come possiamo Dire che quelle Tue protesi In realtà Non ti diano Addirittura un vantaggio Rispetto a delle gambe Normali No no Oggettivamente Lo danno Come adesso Negli ultimi anni È uscita tantissimo La moda Della differenza Della biodiversità Anche tra gli esseri umani No Dell'accettazione E ci sono tantissime Modelle Con Protesi E le mettono in mostra Molto orgogliosamente Non so se voi Le avete viste Sono modelle alternative Vanno nel genere Delle modelle alternative Solo che Una decina di anni fa La modella alternativa Era quella Con piercing E tatuaggi E magari Degli stili estetici Non canonici Adesso la modella alternativa Sono Le modelle vecchie Ma tanto vecchie Anche 70-80 anni E le modelle Con delle parti sostituite O le vitiligini Su grande parte del corpo Cioè tutti quei dettagli Che una volta Erano assolutamente Ostracizzati E tenuti Nascosti Le cicatrici Praticamente Si è passati Dal nascondere Le protesi All'addirittura Mettere in mostra Diciamo che Secondo me Questo è un passaggio Naturale Del transumanesimo Per arrivare poi A fare A fare entrare La tecnologia In modo molto più pervasivo E' praticamente Il primo step Per l'agitazione Della tecnologia Comunque sono Sono d'accordo con te Quando dici Che ormai Chiedono il permesso Alla telecamera Al microfono Anche cose Che non dovrebbero Tipo Che ne so TripAdvisor Io non voglio Darti il permesso Ma infatti Il bello scorne di iPhone È che puoi scegliere Cosa A chi dare A chi dare cosa Mentre su Android Non hai questa opportunità No No In realtà te lo chiedono Qualche mese fa E' scoppiato Un caso abbastanza Interessante Che Un dispositivo Messo in vendita Adesso non mi ricordo Chi Ma lo posso trovare Che doveva funzionare Come cassa Come speaker Per collegare La musica E sentire la musica Del tuo telefono E' stato poi Comprato da Google E Quando Google Ha lanciato L'assistente digitale Ha detto Bene Chi ha già Questo speaker Questa cassa Per la musica Può usarlo Come assistente digitale La gente si è cominciata A chiedere Sfermi tutti Ma quindi c'è un microfono Installato su questa cassa E' venuto fuori Che i produttori Di questa cassa Hanno inserito Un microfono Nell'ingegnerizzazione Dell'oggetto Ma non c'era nemmeno Nel libretto di istruzioni E che ha dato Abbastanza uno shock Dicendo Com'è possibile Che questo device Abbia un microfono Non si sa Se sta registrando O meno E non c'è nemmeno Scritto nel libretto Di istruzioni Ma era quella cosa Che appunto Google era entrata dentro Cioè era finita appunto Su Alle cronache Sui giornali Per la questione Che registrava A insaputa delle persone Perché appunto Aveva questo microfono dentro La gente diceva Scusate ma noi abbiamo comprato Senza sapere che c'era un microfono Che ci registrava Un conto è comprarlo Sapendo che il microfono Ce l'hai Quindi che cosa avete voi Registrato della nostra vita E avete usato Quei dati Per sviluppare Not in post produzione Allora Stavo cercando appunto L'informazione Perché me la ricordavo Anch'io Mesi fa Di averla sentita Mi pare in un video Di Breaking Italy Ma non trovo Né il video Né tantomeno Gli articoli Che ne parlano E quindi Ho messo In descrizione Un articolo Più recente Sulla questione Degli speaker Che spiano E spero che basti Ciao ciao Due anni fa C'era stato lo scandalo Di Facebook Che se tu parli Ad altavoce Con un amico tuo E ci inserisci Una parola strana Però continui a metterla Dopo un po' Iniziano a comparirti Le pubblicità Diciamo Pilotate Insomma Algoritmate Su quello che dici Anche se non compare Nelle tue ricerche Nella cronologia Di ricerche E aveva fatto Questo esperimento Che parlava Normalmente con l'amico E inseriva La parola Tipo Non so Motoblindo Una cosa che non C'entrava niente Sì ma mi piacerebbe Tanto venirti a trovare Lo faccio con un motoblindo E in capo E in capo A poco tempo Hanno iniziato A comparirgli Pubblicità O newsletter Non registrate Di motoblindi Sì sì esatto Come motoblindo Che noi ridiamo Però Si fanno i cazzi nostri Comunque Ragazzi Questo è il trend Stacce E l'unica cosa Che si può fare È incrementare I parametri Di privacy Fa parte Del transumanesimo Ma noi adesso Di cosa stiamo parlando Delle inserti Del miglioramento Dell'essere umano In quanto tale O di tutte quelle Tecnologie al contorno Che adesso ci stanno Pian pianino Semplificando O impigrendo La vita Sempre di più Ma è la stessa cosa È esattamente Quella la questione Quello che volevo dire Prima Perché c'è No perché c'è Il transumanesimo Alla Terminator Quindi proprio diventa Alla Robocop L'uomo macchina Bravo Alla Robocop È in maniera È drammatica Perché è istantanea In Robocop Lui Se non sbaglio Lui è vittima Di un incidente Quindi viene robotizzato Da testa a piedi Più o meno Ma quello che succede Con le assistenti digitali Con il riconoscimento vocale Tutte queste cose qua È un piccolo passo Per la stessa Per la stessa cosa Ti faccio un esempio Step Per riuscire ad avere Un corpo Meccanico Cosa bisogna avere Un braccio robotico E quello Ci siamo Come tecnologia Ci siamo quasi Abbiamo qualche problema Nella Nella Questione di batterie Ma La tecnologia c'è Serve un'interfaccia Per connettere Gli impulsi Del cervello Al Al braccio digitale C'è già Per cui Anche là Ci si sta lavorando C'è uno scalatore Che ha le protesi Non solo ha le protesi Nelle gambe Ma sono connesse Al cervello Lui si rende conto Che da quando Ha queste protesi Poi Una ditta L'ha contattato E sta lavorando In sinergia Con questa ditta Per migliorarle Quindi sta facendo Da beta tester E ha detto Che da quando Ce le ha E sono comandate Dal cervello Sono connesse Al cervello Lui scala In modo molto diverso Molto più performante Pensate Ci mancherebbe altro C'ha dei muscoli elettroni Questo sono molto Interessato A cosa E il passo successivo Dal come connetti Il tuo cervello Al tuo braccio Potrebbe essere Con un chip Con qualcosa Che si connette Alla midollo Alla colonna spinale Oppure Perché non digitalizzare Direttamente Il tuo cervello In questo modo Potresti avere Una connessione esterna Ti puoi connettere A qualunque computer O a internet Direttamente E aspetta Giulio Digitalizzare Tutto il cervello Cosa vuol dire Che metti un cervello Non saprei come definirlo Metti il cervello In outsourcing E qui andiamo a finire Direttamente In Ghost in the Shell Diretti A più e pari Lo sapevo Ghost in the Shell Esattamente L'ha Stato scritto Nel Quando è Nel Anni 90 Per chi non lo sapesse Ghost in the Shell È un anime O un manga Giapponese Che parla di Allora Ghost in the Shell È un franchise Che spazia Dal film D'animazione Ai manga A una serie Più serie tv E praticamente Tratta di una scuola speciale Dedicata a combattere Cybercrime In un mondo Dove La tecnologia Ha già fatto Molti progressi Al punto In cui A braccia Robotiche E cervelli Ciberanetici Sono all'ordine Nel giorno Per cui I protagonisti Sono Hanno a disposizione Connessione A internet Direttamente Nel cervello Possono parlare Tra di loro Senza dover Usare radio O simili Possono Connettesi A internet Direttamente Col cervello Ragazzi Ma stiamo Stiamo parlando Della pulizia postale Ghost in the shell Polizia postale Però è molto più figa Perché hanno dei cyborg È molto più figa Ciao Siamo alla polizia postale Salutiamo la polizia postale Senza di loro Tutto questo Non sarebbe possibile Anzi Grazie Perché ci pagano È nostro sponsor No no Poveretti Con l'aumento Del traffico Su internet Ce ne hanno Da lavorare Poveretti Più che altro Sulla questione Ghost in the shell Che è interessante Però Eravamo partiti Con delle protesi Che sono reali Ma parlare Di cervelli Ghost in the shell È fantascienza E parlare però Di cervelli Diciamo Cibernetici Che ricordano Anche molto Asimov E la fantascienza Classica Non so Quanto realistico Sia Anche perché Se hai un cervello Cibernetico Dov'è l'io? Ecco Bravo Questo è esattamente Il punto di Ghost in the shell Ci hanno fatto Due film E quattro serie tv A riguardo Per rispondere A questa domanda Mimillantamanga Comunque Quello che voglio dire È che Parlare di cervelli Cibernetici Al momento Sembra una cosa Impossibile Lontanissima Ma se tu scomponi L'argomento In piccoli passi Allora tu hai L'introduzione Nella vita moderna Di chip Sotto pelle L'introduzione Nella vita moderna Di collegamenti Al cervello Che possono permettere Di controllare Gli arti Meccanici Improvvisamente Il cervello Cibernetici Non è più Così lontano Come tecnologia È una cosa Che mancano Pochi anni Per arrivare Wow Cavolo Abbiamo tirato fuori Tantissima roba E mi sembra Che ce ne sia Veramente tantissima Altra da dire Che ne dite Se facciamo Che Continuiamo Con questa cosa La settimana prossima Con la prossima puntata E andiamo avanti A tirar fuori Tutto quello Che c'è da tirar fuori Perché mi sembra Un argomento Allucinante Tra l'altro Mi viene in mente Di un libro Che Di cui voglio Assolutamente parlare E ora La chiudiamo qui Come al solito Eh Eh ce n'è da dire Su questo argomento Boh Allora Come sempre Potete trovarci Dove? Su Spotify Su Spreaker Su Apple Podcast Su Google Podcast Su Facebook Ma soprattutto Il più importante Sulla Tazza.it Che istituzionale Che sei Giulio Alla prossima Ciao 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 Ciao